Buongiorno, grazie alla compagnia, grazie all'aiuto, speriamo che questo viaggio sia un po' lungo via dai flussi, grazie tanto. Oggi non è presente la decana, sarebbe stato il 153esimo viaggio, ma è il co-decano della Reuters Bullella, lui prende il comando e si va davanti, grazie tanto, ma sulla decana vorrei dire che l'altro giorno è uscito l'ultimo libro di lei sulle donne maltrattate, ma davvero un gioiello per fare capire il dolore e l'oscutamento delle donne nel giorno di oggi, dobbiamo riflettere su questo tema, io ringrazio Valentina per questo lavoro che ha fatto, così augurato, per il libro. Poi vorrei dire che ci sono il 50esimo della F spagnola, dove è Cristina? Ottanta, ottanta! Ottanta? Ottanta è un po' grazie a noi, e poi, il mio amantevo nel ricontro finale, di dare un speciale posto a lei perché faccia le domande che da opportuno, no? un o due domande ma con tutta libertà fuori programma un omaggio alla E. E adesso voglio dire di salutarvi a tutti.